Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Oggi finalmente, dopo tante richieste e purtroppo è passato un bel po' di tempo, ce ne rendiamo conto, ma causa di forza maggiore davvero, e non un qualcosa di divertente ma purtroppo qualcosa di tragico, finalmente siamo riusciti a trovare un attimo, un attimo abbastanza lungo, per fare il video finalmente del Broadlink RM Mini Train e la nuova app Broadlink. Faremo vedere la configurazione da zero, l'unica cosa che abbiamo fatto è il login nella nuova app della Broadlink. Lui è Marco, come vedete per motivi di sicurezza abbiamo una distanza considerevole. Ciao ragazzi! E quindi niente, abbiamo deciso finalmente di fare questo benedetto video. Prima di iniziare ragazzi, una cortesia, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video in uscita. Ma prima di tutto questo ancora, beccatevi la nostra... SIGLA! Quindi ragazzi, come detto, dopo aver visto la nostra sigla, passiamo sull'applicazione e quindi ci connettiamo direttamente col cellulare. Entriamo nella app Broadlink, questo è il nuovo simbolino che dovete cercare sia come applicazione e vi ricordiamo anche di attivare la skill sull'app Alexa, perché poi servirà per la connessione. Prima di cominciare ragazzi, vi ricordiamo di resettare il vostro Broadlink qui nella parte posteriore dove c'è il tasto RESET. Lo tenete premuto con una graffetta fino a che nella parte anteriore inizierà a lampeggiare in maniera veloce. Quindi teniamo premuto. E questo è il lampeggio che noi cerchiamo. Questo servirà per attivare il Broadlink nella ricerca. Passiamo sull'app. Quindi clicchiamo su Broadlink. Ricordatevi di controllare che lampeggi velocemente il LED blu sul device Broadlink. E poi facciamo ADD DEVICE. Qui ci chiede di connetterci al nostro modem. Sta facendo la ricerca. Ci chiede la password. Connettiamo al Wi-Fi. Abbiamo effettuato vari tentativi. Però purtroppo a volte internet dà delle difficoltà col Broadlink che ormai sono mai conosciute per poterlo connettere direttamente alla rete. Adesso ce l'abbiamo fatta. Clicchiamo sul nostro device. E diciamo gli vuole sapere dove va messo. In che stanza. Io lo metto in soggiorno. E gli diamo un nome. Lasciamo tranquillamente anche questo. Tanto è un nome fittizio. Non ci servirà a nulla. Facciamo salva. E adesso clicchiamo su USE DEVICE NOW. Una volta cliccato sul nostro device facciamo ADD APPLIANCE. Che cosa vogliamo connettere? In questo caso connettiamo il TV. Quindi clicchiamo sulla prima icona in alto a sinistra. Ancora ADD APPLIANCE in basso. E qui dobbiamo trovare il modello del nostro televisore. Clicchiamo sul modello. Il mio è un LG. E facciamo il primo tentativo per quanto riguarda la prova di funzionamento del device Broadlink. Ci darà quattro opzioni per poter vedere se funziona. Facciamo il test numero uno. Adesso ci chiederà di schiacciare il tasto corrispondente alla funzione che vogliamo. Noi schiacciamo accensione e il televisore si è acceso. Quindi questa funzione è andata a buon fine. Noi diamo la conferma schiacciando sul tasto in basso a sinistra. It works well. Ci fa le congratulazioni perché anche loro non sono consapevoli del fatto che è un grossissimo successo. Quindi clicchiamo su continua. Ci chiede dove è posizionato il televisore. Sempre nel soggiorno. E allora adesso qui dobbiamo dargli un nome. Io vi consiglio di scrivere o tele o tv. Scritto però per esteso. Io la chiamerò tv. Salva. Come vedete è comparso il messaggio che tv è connesso ad Alexa. Quindi siccome io precedentemente ho scaricato la skill su Alexa del Broadlink, me l'ha connesso direttamente. I know it. Clicchiamo in basso. E' andato tutto a buon fine. Use device now. Quindi a questo punto noi possiamo fare già la prova di accensione e spegnimento. Alexa, spegni tv. E il televisore si è spento. Una volta effettuata la connessione e il riconoscimento del vostro televisore, avete già configurato tutti i tasti del vostro televisore e potete comandarli anche in maniera vocale. Ecco l'esempio. Alexa, canale 5 tele. Mi sintonizzo su 5 su Provide. Alexa, canale 1 tele. Mi sintonizzo su 1 su Provide. Allora, non vedete nulla semplicemente perché io ho Sky. Quindi l'unica connessione che poi dopo andremo a fare è quella con i canali di Sky. Adesso andremo a configurare Sky, ma prima di farlo vi ricordiamo per chi ha Sky Q, come nel mio caso, di premere i tasti 4 e 6 contemporaneamente, in modo tale da passare dalla modalità Bluetooth a quelle infrarossi. Tenete premuto insieme. E questo è il segnale che siamo passati sull'infrarosso. Ora possiamo procedere con la configurazione di Sky Q. Ora andiamo a configurare Sky Q. Cliccate sul vostro device Universal Remote, quindi il Broadlink. Entriamo dentro. E come vedete c'è il televisore. In basso dobbiamo aggiungere un altro dispositivo, quindi in basso cliccate su Add Appliance. A questo punto gli diamo l'impostazione Set Top Box. Allora, qui ci dà tutta una serie di dispositivi. Noi avevamo fatto dei tentativi cliccando con Sky direttamente, ma non vanno bene. Noi gli diciamo che non riusciamo a trovare la marca del nostro prodotto. Quindi cliccate in basso, Can't find my brand, learn the remote right away. Questo fa sì che verrà effettuata una ricerca. Prima vi chiede anche dove va messo questo, dove va posizionato, dove è posizionato questo prodotto. Sempre in soggiorno. Andiamo avanti. E qui gli dobbiamo dare il nome. Come si chiama? Noi lo chiamiamo Sky. Salva. Ok. Come vedete, anche Alexa l'ha riconosciuto. È venuto fuori il messaggio. Use device now. Arrivati a questo punto, il telecomando virtuale, come potete vedere, non ha tutti i tasti abilitati. Voi, per poterlo associare, cliccate sul tasto di accensione e spegnimento sul telecomando virtuale. E qui vi dice, cliccate il tasto Power verso il Broadlink. Lo facciamo. E controllate che si accenda il vostro prodotto. Vi dirà di fare la prova. E il telecomando, o almeno il comando virtuale, funziona. Quindi gli date yes. Ok. Come potete vedere, si è abilitata una funzione in più. In questo momento, se noi andiamo a dare il comando ad Alexa, dovrebbe accendere e spegnere il prodotto. Effettuiamo la prova. Alexa, accendi Sky. Vi ricordiamo che in questo caso abbiamo configurato solo il tasto di accensione e spegnimento. Adesso dobbiamo andare a configurare tutti gli altri tasti. Adesso andiamo a configurare altri tasti del nostro telecomandino virtuale. Io, ad esempio, il tasto del volume non ce l'ho fisicamente collegato direttamente al televisore. Passa tramite la soundbar di Sky. Quindi io, a questo punto, dovrò andare a configurare la soundbar di Sky. Come fare? Come abbiamo fatto prima, semplicemente. Clicchiamo sul tasto del volume, in questo caso. Dopodiché andiamo a puntare il telecomando verso il nostro Broadlink. Diamo il tasto corrispettivo. Ci chiederà di fare una prova. Il tasto ha funzionato? E glielo dico. Yes, ha funzionato. Stessa cosa per il tasto per abbassare il volume. Puntate. Facciamo la prova. E ha funzionato. Allora, questo va fatto per tutti i tasti. Lo so che è una rottura di scatola, in tanti ce l'avete scritto. Ma è possibile che devo abbaffare tutta questa roba? Sì, purtroppo sì. Dovete farlo. Prendetevi il tempo che vi serve e andate a caricare tutti i tasti che vi servono sul telecomando. Altra cosa, vi premettiamo, dopo entraremo di più nello specifico. Quando andremo a configurare i tasti numerici, non potrete dire vai su Sky Atlantic, ad esempio, come si faceva con gli HC4U. No, purtroppo dovrete dire il numero corrispondente, quindi ad esempio il 301 e Sky andrà direttamente su quel riferimento come canale. Adesso andiamo a vedere come modificare anche gli altri tasti. Quindi è sempre il solito discorso. Cliccate ad esempio sul tasto per avanzare coi canali, tasto corrispondente sul telecomando di Sky, cliccate e ha funzionato. Ok, questa era la configurazione dei tasti, diciamo, basilari. Ora andiamo a vedere i tasti numerici. Salteremo questa parte come registrazione perché deve essere fatta la stessa identica cosa. Cliccate sul tastierino numerico dove c'è scritto 123 sul telecomando virtuale e qui, come vedete, dovete andare a programmare tutti i tasti che vedete. Quindi dall'1 allo 0 li dovete andare a configurare come, come vi abbiamo fatto vedere poco fa. Fatto questo, poi riprendiamo la registrazione e vi facciamo vedere come cambiare canale virtualmente, col comando vocale, scusate. A dopo. Una volta che avete configurato tutti i tasti del vostro telecomando virtuale, vi facciamo vedere che anche questo viene preso direttamente dal vostro dispositivo Alexa. Alexa, Sky canale 301. Mi sintonizzo su 301 su Provide. Il device Sky ha preso il comando. Ricordatevi, purtroppo in questo momento non possiamo ancora dare Sky Cinema 1 piuttosto che un altro nome. Possiamo dare direttamente il canale. Adesso effettuiamo la prova del volume e quella è la soundbar, quella che vedete in basso a sinistra. Alexa, alza volume, Sky. Alexa, alza volume di 10, Sky. Alexa, alza volume di 10, Sky. Alexa, muto Sky. Anche la prova del volume del muto funziona. Queste erano praticamente tutte le impostazioni per poter abilitare i vostri device. Allora, approfondiamo alcune cosettine di questa app di Broadlink. Allora, ad esempio, entriamo in Sky, ci compare il telecomando virtuale e come vedete qui ci sono configurati solo i tasti che per adesso sono andato a programmare. Se voi cliccate sul tasto in basso a destra, quello con le tre lineette, vi chiede la posizione, che naturalmente è fallita, non riesco a capire perché, ma non riusciamo a configurare la posizione. Io gli posso dare tutti i riferimenti, ma alla fine mi dirà che ha fallito. Non trova il provider. Digitiamo cinema1, scrivete cinema1, ma scrivetelo tutto attaccato, perché abbiamo fatto delle prove e staccato non lo prende dall'errore. Qui adesso ci chiede il canale di riferimento, quindi il numero. Ed è 301. Date fatto. Ok in alto a destra. E dall'errore lo stesso. Vi consigliamo di effettuare delle prove. Quando abbiamo fatto la prova di ieri, praticamente voleva solamente la scritta cinema1, scritto per esteso e tutto attaccato. Oggi non gli piace, quindi lo vuole col numerico. E noi abbiamo scritto cinema1, abbiamo dato l'ok e ha preso questo comando. Quindi entrate in Sky, sempre i trattini in basso a destra. E qui avete una channel list. Noi abbiamo creato cinema1 e se ci cliccate sopra, come potete vedere, va direttamente su cinema1. Però questo, ieri abbiamo provato, non ci dà la possibilità di fare un richiamo vocale. Quindi se io ad esempio gli dico di andarsi a sintonizzare su cinema1, non funziona. Facciamo la prova. Alexa, cinema1 Sky, non riconosce il comando. Adesso vi facciamo vedere che purtroppo non è ancora abilitato il comando vocale per poterlo chiamare col nome del canale. Quindi fate nella home page di Broadlink, add scene, general scene. Allora, qui vi dice di selezionare un'icona, prendetene una a caso. Il nome della scena la chiamiamo cinema1. Ci chiederà su quale device deve mandare il comando, add device, sky. Allora, come vedete non c'è il tasterino numerico, ma noi avendo precedentemente creato una lista di canali con un solo canale cinema1, andiamo a pescare da lì. Quindi, trattini in basso a destra. Clicchiamo su cinema1. Ecco che qui ha creato una scena. Facciamo salva. Ok, e ci dice anche che Alexa ha trovato questa scena. Ora, noi facciamo la prova vocale direttamente con Alexa. Adesso passiamo sull'app Alexa. Andiamo a creare le routine. Le routine le trovate nel menu in alto a sinistra. Routine. Tasto più in alto a destra. E qui ci chiede il nome della scena. La chiamiamo cinema1. Avanti. Quando questo accade, quindi, quando io gli dico, quindi, voce, Alexa, quindi il dispositivo, cinema1. Avanti. Cosa succede? Aggiungi un'azione. Casa intelligente. Controllo scenario. E andate a pescare la scena che è stata importata da Broadlink. Aggiungi. E salva in alto a destra. Se adesso dovesse funzionare come la vecchia app, io dando il comando della routine dovrebbe cambiare canale. Facciamo la prova. Alexa. Sky canale 301. Mi sintonizzo su 301 su Provider. Ok. Adesso effettuiamo la prova per vedere se funziona la routine che abbiamo creato. Alexa, cinema1. Prende solamente il tasto 1, perché come vi dicevamo prima, non è abilitata la funzione di riconoscimento del canale. Noi abbiamo creato una scena su Broadlink, abbiamo creato una routine su Alexa, però purtroppo non funziona. Quindi l'unico modo che vi rimane è quello di dargli il cambio del canale, menzionando direttamente la parte numerica del canale. Come vi ho fatto vedere prima, Alexa, Sky canale 301. Mi sintonizzo su 301 su Provider. E come vedete, cambia canale. Però dovete ricordarvi tutti i numeri dei canali che vi interessano. Tutto qui. Ultima prova che rimane per farvi capire che proprio per adesso non c'è possibilità di farlo, a meno che qualcuno di voi non ha trovato la soluzione magica. Entriamo sempre in Sky. Quest'ultima prova dovete cliccare sui tre pallini in alto a destra. Channel Management. E qui se volete, Add Channel. Qui dovreste andarvi a creare tutti i nomi di ogni singolo numero. Quindi in questo caso, Channel Name lo chiameremo 1, corrispondente al tasto 1. E questo dovete farlo dall'1 allo 0. Poi andare a creare nuovamente nella lista dei canali il 301, ad esempio. A quel punto gli date con l'orologino il tempo che deve trascorrere tra una pressione del tasto e l'altra. E abbiamo provato anche questa. Però se io clicco, funziona. Se invece do il comando vocale, neanche questo funziona. Ora, non vi faccio vedere questa prova, perché comunque l'abbiamo già fatta. E sinceramente non funziona neanche questa, quindi non mi sembra il caso. Torniamo nell'home page. Come potete vedere, abbiamo una scena, il Broadlink. E sotto che cosa comanda in questo momento il Broadlink? La tele e Sky. Tutti quelli che sono i device dovete aggiungerli. Andare a ricercare, ad esempio, stereo. Troverete stereo. La soundbar, io in questo caso, era già collegata con Sky. Quindi me la connette direttamente, me la trova direttamente. Qualsiasi dispositivo funziona ad infrarossi, l'aria condizionata, le potete connettere. Con il tasto poi di riconoscimento di ogni singolo tasto, potete andarlo a comandare direttamente. Quindi farete tutta la procedura che abbiamo fatto finora. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Come al solito, abbiamo avuto un po' di difficoltà. Vi abbiamo fatto vedere anche quello. Ci vuole un po' di pazienza. Abbiamo disattivato il 5 GHz in origine. Abbiamo provato la connessione in quel modo. Resettando il Brodly, stacca, attacca la presa. Diciamo che abbiamo avuto meno difficoltà della prima volta, un pochettino. Però anche qui le difficoltà ci sono state. Anche se ieri abbiamo fatto una prima prova io e Marco, ed era andato subito tutto a buon fine. Quindi ragazzi, mi dispiace dirlo. Però quando mi ci scrivete, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. Ragazzi, pazienza, pazienza, pazienza. Fate tutti i vari tentativi. Chiudete e riaprite le app. Disabilitate e riabilitate la skill su Alexa. Resettate di nuovo il Brodly e rifate la ricerca. Purtroppo non c'è una via corretta per poter fare tutto subito così. Quindi quello che abbiamo fatto noi è stato resettare più volte i dispositivi, chiudere e riaprire le app, disattivare e riattivare le skill. La cosa semplice è stata invece quando veniva riconosciuto il Brodlink direttamente dall'app, il dispositivo Alexa lo riconosceva al volo. Marco? Sensibo, crea anche tu un prodotto che gestisce la televisione. Ecco, Sensibo per adesso è l'unico che non ci ha dato assolutamente problemi. No, vabbè ragazzi, è il solito bordello allucinante. Poi dalla distanza è stato ancora più complicato perché Mickey si è smazzato tutto da solo lì. Però è andata, dai. È molto limitato purtroppo perché non potrete chiamare i vostri canali per nome, però potete intanto cambiare i canali dando il nome del numero del canale. Quindi buona memoria, ricordatevi bene tutti i nomi dei canali così potrete cambiarli tranquillamente. Detto questo ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, anche se siamo in streaming e continuiamo a fare video. Giusto Mickey? Giusto! Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale ma di dare anche un'occhiata qui sotto ai prodotti che trovate in descrizione nei link, che sono tutti i prodotti, o la maggior parte, i prodotti che abbiamo già testato e di cui trovate il relativo video all'interno del nostro canale. Giusto! Direi che per questo video è tutto ragazzi. Dalla quarantena ci si saluta. Ciao! Ciao ragazzi, al prossimo video!